L'ebola, come vedete qua sopra, ha ucciso più di 10.000 persone in poco più di un anno. Ne ha uccise così tante, però, perché in quella zona dell'Africa è usanza lavare il corpo del defunto, quindi entrare in contatto con i suoi liquidi, corporei, infetti, da parte, diciamo, degli amici o dei parenti del defunto stesso. Il lato, tra virgolette, sempre positivo è il fatto che l'ebola ti stendeva quasi immediatamente e morivi, se morivi, ma morivi veramente nel 80, 70, 80, 90 anche per cento dei casi, in 10 giorni. Quindi, così come è arrivato questo virus, che è arrivato probabilmente dalla foresta, se n'è andato, anche se ci sono stati dei casi sporadici in giro per il mondo, che però sono stati repressi immediatamente. Con la viralità e con il periodo di latenza che ha questo virus di così tanti giorni, in cui si è asintomatici, se avesse la mortalità dell'ebola, ragazzi, saremmo assolutamente spacciati. Mi stavo chiedendo, no? Dove saranno finiti oggi gli europeisti, i Novax? Ragazzi, uscite allo scoperto, è il momento, it's the right time, forza!